Gianni Colacione, il 12 aprile 2014, siamo alla seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani in compagnia di Matteo Angeli e parliamo con lui un pochino di un tema che ha trattato nel suo intervento, che è abbastanza di attualità in qualche modo anche tra i radicali e che riguarda un appuntamento ormai imminente che sono le elezioni europee e quindi l'ipotesi che si era ventilata, che era in discussione, della partecipazione di Radicali a queste elezioni all'interno della lista dell'Alde. Ecco, Matteo Angeli ha dato un po' delle delucidazioni, chiediamo di farle qui al pubblico di LibriTV. Sull'appuntamento elettorale? Beh sì, anche sulla lista e la distinzione di lista. Ok, allora, questione molto semplice come credo che si sia capito, spero, dalle cose che ho detto nel mio intervento di ieri, in cui sono partito intanto da una distinzione netta che ho realizzato una settimana fa non essere così chiara all'interno del comitato e non solo, ovvero che una cosa è l'Alde Party, la struttura europea che raduna tutti i partiti e le organizzazioni politiche europee in questa grande famiglia che si chiama appunto Alde Party e che ha come presidente il britannico Graham Watson, che è deputato europeo britannico. Un'altra cosa è l'Alde intesa come progetto politico lanciato da Guy Verhofstadt, che è il capogruppo dell'Alde, cioè in questo caso dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa al Parlamento europeo ex primo ministro belga e con la quale ha voluto dare una rappresentanza dei liberali democratici appunto anche in Italia. Questo è un progetto che lui ha lanciato in una dozzina circa di paesi europei e che appunto vede in Italia impegnati in questo momento ad oggi alcune forze che vanno principalmente da centro democratico a scelta civica a fare per fermare il declino. Noi abbiamo partecipato ai negoziati e alle trattative che si erano aperte su appunto iniziativa di Verhofstadt già a novembre-dicembre, novembre mi pare, il primo appuntamento al quale Emma e Marco furono invitati come rappresentanti dei radicali, del mondo radicale, dei soggetti politici radicali e questa era la prima divisione che ho cercato di spiegare ieri per evitare appunto di proseguire il dubbio, il fraintendimento che ho capito esistere solo in questi giorni sul fatto che noi siamo iscritti all'Alde Party e non abbiamo però sposato il progetto della lista Alde in qualche modo. Questo è un progetto che appunto è un'iniziativa personale di Verhofstadt e che Valerio Federico, il tesorio di radicali italiani, ha criticato per quanto riguarda il coinvolgimento dal punto di vista del coinvolgimento di radicali italiani. Ho spiegato che, e quindi Valerio Federico, il tesorio aeree propone in un dialogo scritto con Rita Bernardini, Laura Conti e me che sono il rappresentante ma presso l'Alde Party ha proposto che noi intanto decidiamo votando se rimanere membri dell'Alde Party o meno, esprimendo la sua posizione tendenzialmente favorevole alla uscita. Il problema che ho posto qua intanto è questo di separare nettamente due cose. L'altro è che, cosa che ho trovato abbastanza grave, è che lui, che Valerio Federico, ha proposto il dibattito in sede di comitato di radicali italiani e poi non lo ha lanciato. Perfetto, senti, abbiamo parlato di Valerio Federico come posizione, ma il segretario, cioè la segretaria Rita Bernardini, su questa cosa come era orientata? Come ho detto prima, nel dialogo scritto che abbiamo avuto sulla posizione da tenere con l'Alde Party, Rita aveva espresso l'opinione di intanto versare la quota per essere iscritti come osservatori, 2.000 euro. Fino all'anno scorso eravamo iscritti a 4.000 euro membri affiliati, per cui questo ci dava l'opportunità di presentare progetti che poi avrebbero avuto, in caso di approvazione, un finanziamento modesto da appunto da D'Alde Party. Rita ha proposto di intanto, entro il primo aprile, data in cui dovevamo saldare la quota, il versamento, di versare i 2.000 e poi una volta saldato questa quota, avviare il dibattito in sede di Comitato Radical, che io ho trovato accettabile, ragionevole. Non è che di punto in bianco usciamo dall'Alde Party senza il dibattito, il problema è che stiamo rischiando di farlo da insolventi. Quindi quello che io critico nella conduzione di questa operazione di Valerio Federico è quello appunto di aver lanciato un'idea, tra virgolette, e di non averla poi attuata. in concreto però ha avuto una conseguenza, cioè quella di essere insolventi e in qualche modo di anche far arenare la questione Alde, ma anche a livello più ampio, perché chiaramente quando io quasi due anni fa lanciai già il tema Alde, il tema europee, più o meno nessuno si mobilitò, nessuno ebbe a dare troppe indicazioni. Per cui siamo arrivati oggi con la lamentela con la recriminazione, dello scarso coinvolgimento di radicali italiani, sia dal punto di vista del progetto elettorale e anche più ampio dal punto di vista della conduzione elettorale di questo movimento, sapendo però che, è innegabile, che sapendo però che gli strumenti, la conoscenza era lì, bastava attivarsi. Stop. Ok Matteo, senti, io volevo tanto chiederti un futuro parere personale, però prima volevo permettere una cosa che ho vissuto, che ho registrato in un'intervista che mi ha fatto a Nicolò Rinaldi, che è uno dei candidati a questa lista, e quindi c'era una riunione operativa e contestualmente c'era parecchio stupore che non fossero presenti radicali. Ecco, allora a questo punto tu personalmente di questa non partecipazione sei l'ammaricato oppure avresti voluto che... Sai, io se Marco Pannella e Mabonino si trovano d'accordo sul dire che queste elezioni non sono democratiche, sono al di fuori di ogni portata a causa appunto della nostra analisi, che è totalmente diversa da quella dei partiti tradizionali e che fanno parte anche di questo blocco, di questa lista, io gli faccio fiducia e anche per quello che ho visto posso dire che sono totalmente d'accordo, ma perché appunto, non perché ho partecipato, perché loro poi hanno rendicontato alla radio, in riunioni pubbliche e di senato e in altri comitati, quello che è lo stato attuale della democrazia italiana e quello che è l'impatto della mancanza di conoscenza di diritto in Italia anche a livello elettorale, per cui se Mabonino e Marco Pannella, e non solo loro del resto, di radicali dico, si trovano in linea su questo punto, sono d'accordo, ma non per una cieca fiducia, mi domando anch'io se... Sei d'accordo, può bastare? Sono d'accordissimo e penso che chiaramente gli elementi corrispondano a quello che è la linea politica che i radicali stanno cercando di perseguire da molto, molto tempo, che è quella della centralità dello stato di diritto e della mancanza di democrazia in questo paese che produce varie vittime su vari piani. Giusto una cosa ad adiuvandum, mi hanno dimenticato, le varie riunioni di cui anche su questo punto Valerio Federico si è lamentato di scarsa conoscenza, devo dire che o ha dimenticato qualche punto oppure è sfuggito completamente il fatto che, poiché Sabrina Gasparini e io inizialmente e poi Maurizio Turco e Marco Perduca poi abbiamo partecipato a queste riunioni indette e organizzate da Gevverostat come SCERPA, cioè come coloro che aiutano il lavoro preparatorio alle riunioni e poi a quelle che porteranno alle decisioni dei leader, abbiamo rendicontato sempre anche al Senato, che è l'organo che rappresenta tutti i soggetti della classe radicale. Per cui le informazioni sono circolate, le decisioni sono state condivise a livello dei comunicazioni, poi è chiaro che uno può non essere d'accordo e benvenga il dissenso, però deve essere motivato su delle basi solide e io non le ho viste. Grazie Matteo Angeli. Grazie a te.